Vedremo una donna molto fresca, molto estiva, con dei tessuti leggerissimi. Ho elaborato tutte le possibilità di lavorare le passamanerie e quindi in realtà le troverete dappertutto. Saranno tricottate, saranno attorno agli abiti, saranno sospese, saranno cucite. Ci saranno mille modi di utilizzare le passamanerie che in realtà fanno un po' parte del mio DNA perché nella lingerie da dove io ho iniziato sono l'elemento decorativo più importante. In questo caso avevo innanzitutto voglia di non avere più nero nella collezione estiva, avevo voglia di colori solari, colori freschi, avevo voglia di leggerezza, avevo voglia di dare una sensazione di freschezza, leggerezza ma allo stesso tempo qualità e un po' la bellezza delle cose fatte a mano. Sarà una donna con un'unica scarpa in mille versioni, però un'unica forma e gli abiti saranno il focus della collezione, per cui i tessuti, le stampe, le lavorazioni sono la cosa su cui ho lavorato tantissimo. A me delle donne poi in realtà mi interessa quel lato lì, mi interessa la personalità, mi interessa la loro sensibilità, mi interessa quello che hanno dentro senza essere poi prese nella corsa di questa vita che delle volte è anche un po' esagerata. Grazie a tutti!